La mia è la cucina della verità, ovvero della forma, quindi della materia. Ciao, che bello vederci. Non vieni mai a trovarmi. Ho ricevuto i tuoi messaggi, però l'ultimo è uguale a me. L'ultimo mi sembra in me. Gualtiero è un'icona. Era speciale. Peccato che a volte si conoscono troppo poco i mestieri che ci sono alle spalle per arrivare ad un risultato. Caro Gualtiero, la tua fama è incominciata alti fuori dai conflitti, anche se oggi è tutta Europa, ma soprattutto la grande Francia che tutti e due amiamo. Non perché ce la voglio facciare, ma perché io. È un personaggio generoso, curio, artiste. Dico sempre che è il prodotto prima che si deve sentire. Con l'arte noi perseguiamo due fini. Il primo è il più importante che è quello di arricchire l'esperienza di consumo del caffè, che è un'esperienza estetica. Cioè noi non abbiamo motivo di bere il caffè. In particolare quello italiano l'espresso, che è un elisir, che manco ti disseta.